La Polizia di Stato ha donato ai frati Cappuccini di Rovigo dei generi alimentari, vi fa piacere questa donazione? Bene, noi viviamo di queste donazioni, di quello che ogni persona porta e vogliamo dire grazie, adesso poi siamo vicino a Natale e diciamo tanti auguri a tutti quanti, sia la Polizia di Stato, sia i nostri volontari che lavorano ogni giorno perché abbiamo la mensa aperta ogni giorno, 365 giorni all'anno, due giorni per la pazienza perché tu sai benissimo che ci vuole molta pazienza con i poveri, loro vengono qui a servizio, noi diamo un pasto completo, vuole dire un primo, un secondo, bandiera gialla ci porta anche la verdura, la frutta, la verdura e poi diamo fuori tanti vestiti, se tu vai in fianco alla mensa vedi uno stand dove noi mettiamo lì tutto quello che la gente ha bisogno. Come è nata questa iniziativa? La Polizia di Stato ha ricevuto una donazione dalla direzione della fattoria di Rovigo e ha ritenuto di dover fare, di dover intraprendere un'iniziativa che già l'anno scorso era stata fatta e cioè quella di acquistare con questa donazione dei generi alimentari per poi donarli ai frati Capuccini di Rovigo che poi provvederanno alla distribuzione ai più bisognosi.